Aspetta eh, che volevo vedere insieme a voi, eccolo, si chiama Luca Valori, vediamo un po' che volevo un attimino scoprirlo Come il po**o sta distruggendo la tua vita, smetti ora, vediamo I social media, la televisione e la musica hanno sessualizzato il nostro corpo, hanno sessualizzato il nostro Come hanno sessualizzato il nostro corpo? Come osi dirmelo in questa maniera? Il nostro cervello, al punto da non averne più un controllo effettivo La verità è che l'industria del po**o sta distruggendo la nostra società Cazzo, quella è un po' un po**o Crea dipendenza e non è assolutamente un'alternativa al vero sesso Ma tra l'altro quella era 50 sfumato di grigio Bisognerebbe educare meglio la popolazione sulle estreme conseguenze che il porno ha sul cervello E bisogna farlo adesso Vai, vediamo che effetti ha Essere sessualmente disciplinati è il codice segreto per ottenere successo nella vita Ah, ok Io invece trombo di brutto, pensa un po' Sia con le donne che con la propria famiglia Per questo motivo oggi ho intenzione di mostrarti il processo ne... Orge, frisum, tutto faccio Eppure sta andando bene Strano Strano Cessario per desessualizzare il nostro cervello E diventare totalmente disciplinati sessualmente Vabbè, vediamo, vediamo Regola numero uno Il premio sei tu In genere Il premio sono io Pensavo fosse la topa Anche questo, questo sono sempre Vabbè, vediamo, scopriamo perché E chi è ossessionato dalle donne, no? Che dice io faccio E alla fine non conclude mai un cazzo Essere ossessionato dalle donne Dal sesso con le donne Ti fa apparire un disperato Ok Questo è molto peggio di essere brutti Oppure di uno status sociale inferiore alla media Allora, io ai tempi ho conosciuto Agnese Dieci anni fa Ieri, tra l'altro Perché dieci anni si sta insieme Non avevo questo status molto particolare E sono sempre stato, sì, un gibbone a giro per il mondo Eppure C'è anche altro, secondo me, oltre questo Però scopriamo insieme che cosa ci racconta il nostro amico Le donne sono programmate biologicamente Per cercare e trovare un uomo Che garantirà loro la sopravvivenza Un po' nella Averna Vieni topa Questa è la mia nuova casa C'ho un po' d'umido Ma sono convinto ti ci troverai bene Con le torce Con le torce E anche quella dei loro figli Se appare ossessionato E troppo esageratamente bisognoso di lei Sarà automaticamente un fallimento No, no, no Io ogni volta che ho bisogno di Agnese Glielo dico E lei lo dice a me E viviamo proprio benissimo con questa roba Perché dai la sensazione Di non avere abbastanza fiducia in te stesso E soprattutto nelle tue capacità Iniziamo Ma non è vero Questo è un po' maschilismo tossico C'è Non è vero Se hai bisogno di essere protetto Dalla tua ragazza Da tua moglie Dall'amore della tua vita Perché in quel momento sei Completamente annientato E hai bisogno di uno stimolo Hai bisogno di un porto sicuro Che ti protegga Perché non dirglielo? Perché anche non piangere con lei? Non Non farti Non aprire le tue difese con lei? La persona che tecnicamente Ti dovrebbe conoscere meglio Che cazzata è? Come il nostro viaggio di disciplinamento sessuale Con il dire che è strettamente necessario Smettere di andare in continua ricerca della pornografia Ma la pornografia è svago È un hobby Ma lo fanno anche le donne Fanno anche di molto bene Basta Vari studi dimostrano che Chi usufruisce della pornografia Senta un inferiore desiderio E di conseguenza meno soddisfazione sessuale No 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 Sto benissimo Mi fa le seghe Io e Agnese Insomma ci masturbiamo tranquillamente Però Ancora tutto ok Dopo dieci anni Dieci Studi dimostrano anche che Appena si smette con la pornografia Tutti gli effetti collaterali negativi Cessano di esistere E smettere caro mio Non è così semplice E lo so E suggerimenti dal numero due Al numero cinque Che ti darò in questo video Ti insegneranno Come diventare molto più disciplinato Per la tua vita Regola numero due E risparmia dieci Ma perché lo fai se hai lei? Perché è divertente E diventa ricco Inseguire le donne No aspetta aspetta Cosa c'entra la ricchezza Fermo non mi sto perdendo Cinque che ti darò in questo video Ti insegneranno Come diventare molto più disciplinato Per la tua vita Regola numero due E risparmia dieci mesi E diventa ricco Eh? Inseguire le donne è faticoso Ma soprattutto costoso Molto spesso Ti fa spiegare del tempo Molto prezioso Che potrebbe essere investito Sulla tua persona Molti studi di mo- Allora Posso dire una roba? Magari Magari sba- Bex Grazie mille per i cinque gift Magari dico una cazzata eh Donne in chat Ragazze in chat Ditemi voi Ma non è vero Cioè Quando una donna Si trova ad interessarsi In un ragazzo E quando un ragazzo Si interessa a quella ragazza Non è che debba voi spendere così tanto Perché Le ragazze sanno bene Quello che vogliono E quando si affascina tantissimo A un ragazzo che hanno di fronte Non è che proprio Cioè Lo fanno capire Poi c'è quella più timida C'è il ragazzo più timido Tutto quello che volete Però Toma Le ragazze Ti notano subito Se sei interessante Se gli interessi Soprattutto dopo i vent'anni Questo però è interessante Vediamo un po' E poi Ci si confronta E basta anche Un'uscita al pub E non penso che Due birri o due bevute Sono dieci euro Vindici euro Cioè bisogna risparmiare Dieci mesi Minta Dieci mesi Di uscire per trombare Magari fai cala a te Cioè non te lui Non il nostro Luca Fai cala a te Generico Mostrano che ci vogliono All'incirca nove mesi E quattromila profili Social Screpati nel web Per trovare Vabbè quello sei un cogl***e Che vai a cercare la fia su Tinder Un match che corrisponde Alla tua figura Abbastanza gemella Inoltre Ulteriori Ma non si trova O si la ragazza Non si va su Tinder Poi c'è chi ce la fa Ma è uno su mille Cioè Tinder serve per trovare È ludico Cioè la gente I ragazzi Le ragazze Vanno lì perché C'è una voca Così di passare Un sabato sera Un po' diverso Si trombicchia e via Ci sta Di Dada per esempio C'è riuscito però È un punto Un caso su mille Secondo me la ragazza La trovi magari Nelle compagnie di amici O compagnie di amici Di amici Esci Ti trovi Chiacchri Condividi i tuoi interessi E poi vedi se va bene I studi Suggeriscono che Durante questa ricerca Un uomo su tre Non sia attivo Sessualmente Dalla Boia D'altra parte però Siti come Pornhub Continuano a registrare Un incremento Delle visualizzazioni In modo folle Le persone spendono Su Pornhub In media Dieci minuti al giorno Che moltiplicati Per 365 giorni l'anno Sono un totale Di 3650 minuti Pari a 60 ore Ossi Scusami eh Se te lo dico Amore mio Ma Lucone Non mi sembra tanto Cioè è poino Di a circa Due giorni e mezzo Ricapito All'anno Insomma è che Easy Io ce li investo Volentieri Ecco Titolando quindi Spendi una media Di nove mesi In siti di incontri Cercando un match Che ti soddisfi Spesso però Non dai risultati Sperati In quanto un uomo Su tre Non ha nemmeno Rapporti Sessuali E per questo Passi dieci minuti al giorno Su Pornhub Da questo deduciamo Che molti Pazzo ragazzi Tanto eh State attenti Voi altri Eh Dieci minuti su Pornhub È un casino Non state diventando ricchi Amici Grazie a Bazzini 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 Ottenendo zero Grande Grazie a Bazzini Io ti chiedo Quante cose Avresti potuto Fare in tutto Questo tempo Avresti potuto Investire il tuo Fottutissimo tempo Fottutissimo In un hobby Lo avresti potuto Investire in una Tua passione Guarda ora Luca Questo è un caso Molto molto personale Singolare Diciamo Ma era meglio Farmi più seghe E incentivare Un po' meno I miei hobby Vai Che m'hanno Sono dispendiosi Ad esempio Avresti potuto dare il via A un nuovo business Per questo voglio Consigliarti di seguire La regola delle 20 ore Questa regola dice che Concentrandoti Ed investendo Seriamente Del tempo In un'attività Per 20 ore Bello il pittore Proprio con la tavolozza Il camicino E ovviamente A 94 anni Perché ormai Si parte In questa maniera Solo se si ha Quest'età Ma no scherzo Però insomma Ossia circa 45 minuti al giorno Per un mese Ah il kung fu Ah no Il karate Al tramonto Beh c'è Una grande attività La fanno tutti Se vai Basso Lazio È tutto Karateca O si Buttati Al tramonto Potresti diventare Veramente competente Nella realtà Ecco Vedi Maurizio Merluzzo Con un suo amico Di colore Da te Scelta Quindi invece di inseguire le donne Per dieci mesi Con scarsi risultati Potresti impiegare lo stesso tempo Scoprendo e sviluppando Dieci Diverse Abilità O passione Che ti renderanno Agli occhi altrui Molto più interessante E molto più Attraente Oltre ovviamente Ti renderanno Più ricco Non mettere queste cose All'interno Non c'è bisogno Ti faccio un esempio Il primo mese potresti Imparare Una nuova lingua Il secondo A giocare a scacchi Il terzo A come fare Advertising Online Tipo su Facebook Tipo su Instagram Il quarto Potresti imparare Jiu Jitsu Ah ok Ragazzi No segue Sì al Jiu Jitsu I corsi Jiu Jitsu Sono gratis In Italia Non so se lo sapete Ma li passa la Meloni Quindi Quindi potete Dovete si risparmiare Per dieci mesi Tra bevute Cene Per conquistare La vostra ragazza Ma Jiu Jitsu non costa Quindi investite il vostro tempo lì Il quinto Potresti ad esempio Iniziare ad allenarti Con i pesi Il sesto Anche la palestra è gratis La passa allo stato Ad esempio Fare volontariato Il settimo Andare a caccia L'ottavo Sì stai crollando Cioè non è possibile Che tu sia serio Non è possibile Che tu sia serio Cioè te Stai dicendo Che è meglio Uccidere Un cinghiale Rispetto a uccidere Degli spermatozoi C'è qualcosa che non va Secondo me Qua amici o mio E poi abbottonati la camicia Per piacere Un ser malandrone Paticare box Il nono Creare nuovi contenuti Anche a caccia Comunque il fucile Te lo regalano Le pallotto Te le regalano Ti regalano Tutto la palestra Qualsiasi cosa Per i tuoi Social Il decimo Creare un nuovo business A caccia Appena siete lì Con lo scopettino A pulire la canna Arriva un'orda Probabilmente Attratti dalla polvere Da sparo E vi spaccano La porta Di un buono Modello shining Sei nel lupo cattivo Entrano dentro E vi scoprano Il culo Di un buono Con lo strapone Subito Appena sentono La polvere Da sparo E come il sangue Con gli squali Incapiscono più niente Vi arrivano Inbound Che vuol dire Che vuol dire Che vi fanno Un bucio Di culo Così Con lo strapon Da 32 cm Invece che tu Sela continua E disperata Ricerca di andare Là fuori E a zannarne Una che probabilmente Neanche ti vorrà Ora passiamo Alla regola Numero 3 Smettila Di cercare La pornografia Su tiktok O in giro Per i social network Con tutti questi Balletti Eccetera Ogni volta Che iaculi Balletti Eccetera E mi nonno Aspetta Questo discorso Inizia In una maniera Straordinaria Ogni volta Che iaculi Ragazzi È incredibile Chissà dove Vuole andare a parare Con tutti questi Balletti Eccetera Ogni volta Che iaculi Caro mio Drenila Caro mio Eh però La tua energia maschile Rilasciando Ossitocina Vasopressina E prolattina Quello perché Si vede il taglio Che sta leggendo E ha fatto tre tagli Perché ha dovuto Leggere le tre parole E alla terza parola Si vede che tira sulla testa Dal tacuino Dio modo mio padre Guarda 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 La tua energia maschile Rilasciando Ossitocina Vasopressina Guarda guarda Vedi che ha fatto Il ticchettino E che C'ha dio modo Il blocco note Lì con la penna Oddio aspetta Che ho mutato E due causano al corpo Un senso di Totale Relax Che è lo stesso motivo Per il quale Subito topo Ti inizia a sentire Subito topo Oddio guzzati Ti resta Il rilascio della prolattina Invece Viene collegato Ad un senso di Soddisfazione sessuale Per cui Oltre a sentirti stanco Perdi totalmente La motivazione Di investire Le tue energie Nella tua realizzazione Personale E inoltre Alla realizzazione Personale Alla pizza Niente più Comunque Non è vero Cioè io Non sono così Accorto di energie Quando eiaculo Caro mio Cosa molto grave Ti leva la voglia Di andare a conquistare Una vera Donna Perché tanto La soddisfazione Del relax E della soddisfazione Sessuale Già ce l'hai Masturbandoti Davanti un cazzo Comunque I filmati Il repertorio Che utilizza Sono incredibili Forse è uno dei migliori Perché dovresti avere Tutta quella voglia Che ti esce dall'interno Per andarti a conquistare Una ragazza vera Quindi per diventare Sessualmente disciplinato Smettila di cercare Pornografia Su quei fottutissimi schermi Il tempo che Fottutissimi Sempre Che tu dedichi Davanti a questi schermi A cercare Di Oddio più 3D Di trovare Il tuo porno preferito Io mi immagino Lucone Che Pensa Alla sua scena Di Natale Col nonno Che s*****a Sul pandoro Madonna Secondo lui E' così Secondo me Stappano spumante Buon Natale Buon Natale Intanto c'è il nonno Ai tempi del duce Cioè raga Ma veramente Non è possibile Utilizzare questi filmati Di repertorio Ma siamo pazzi Non intendo dire Che il suo nonno Fa veramente così Era un esempio Ipotetico Assolutamente Il suo nonno Credo che sia Una persona rispettabilissima Che non ha avuto Niente a che fare Col fascismo E quindi Prendo assolutamente Le distanze Non voglio che sia Fraintesa questa cosa Assolutamente E di conseguenza È un topo Che corre nella sua gabbia Perché dovrai sempre Continuare a cercare Nuovi stimoli Sempre maggiori In questi siti Forse non lo realizzi Molto bene Ma bisogna Sradicare Il problema Alla fonte Alla radice Cioè Uccide Il foto Ogni audio Ogni video Che ti stimola Sessualmente È considerabile Porno Ma come cazzo fai Ma è impossibile Cioè io in casa Se Agnese si china Per mettere piatti Nella vostra viglie Cosa devo fa Scusa mio amore Devo andare a creare Un business Perché questo culo aperto Davanti a me Mi ha dato veramente fastidio Ha stimolato Il mio appetito sessuale Devo andare Inbound A massimizzare Il mio feedback Su Instagram E lei mi fa Ma te sei ritardato Ma giustamente anche Regola numero 4 Trova la donna Che realmente desideri Solo quando Sarai sessualmente disciplinato Una volta in cui lo sarai Diventerai un uomo Di alto standard E non sottostarai A qualsiasi cosa Che una donna Voglia da te Avrai il pieno controllo E diventerai Finalmente Attraente Ma io non voglio Cioè se Agnese mi sputa Mi tratta male Mi schiaccia le palle Con il tallone Io sono contento eh Mi abbinamento eh Dove si firma Le donne in genere Sono abituate A un uomo Che faccia ogni cosa Che la donna vuole Uomini senza Dignità personale E ovviamente Sì Sì Ogni tanto ci sta Proprio rinunciare Alla propria dignità personale La donna A letto Tutti dovrebbero farlo È molto più potente Nel controllare Godo Attraverso il desiderio sessuale Godo E se pensi di non poter È la natura Controllare questi desideri sessuali Allora è meglio Che tu spendi il tuo tempo Per andare in palestra Sforzandoti E facendo Veramente Un esercizio fisico Sì ma anche in palestra Lucone È un casino Anche lì come puoi Non avere stimoli È impossibile Lo duro Uno studio afferma che Qualora non si dovesse Controllare I propri impulsi sessuali Una buona soluzione È allenarsi Molto duramente In palestra E questo non solo ti Beh ma Mi mandi i link Di questi Di questi studi Per favore Per piacere Perché se l'ha fatti La studi Pecoroni SRL Mi importa una sega Permetterà Di costruire un corpo Migliore Ma ti aiuterà molto Nel conquistare Molta più Autostima di te stesso È regola Numero 5 Non essere Povero Esiste una cosa Chiamata Ragazzi Concentriamoci Forza Mettete le mani così E adesso Desiderate con tutte le vostre forze Di diventare ricchi Forza Buttate fuori L'idea che siete poveri E sarete ricchi Dai Ce l'avete fatta? Perfetto Ora andiamo in Africa E lo insegniamo a tutti quanti Così almeno Si Diciamo Finalmente diventeranno ricchi Tutti i poveri nel mondo E solveranno i loro problemi Del successo Si tratta di una vera e propria formula Per coloro che vivono in un paese sviluppato Per la quale Se tu possiedi il diploma Delle scuole superiori Hai un lavoro a tempo pieno E non hai figli al di fuori Del tuo matrimonio Le tue chance di essere povero Sono davvero poche Le persone che guardano pornografia Hanno dieci volte Di più Il rischio di mettere incinta La propria partner E questo perché mancano di self-control Eh? Del controllo di loro stessi Ricordo che il tutto non inizia dai porno Bensì da molto prima Per questo consiglio di cambiare proprio il problema alla radice Cambiando ad esempio la musica che ascolti Ad esempio con dei podcast sul business Ma che pale Ma mi scendono i co***i Ma così divento impotente Cioè se ascolti un podcast sul business Dio buono vado a casa E Agnese mi sembra un pipistrello rangoide Possono dare qualcosa in più Rispetto al tuo tempo investito Che sta ascoltando quella musica Ci sono vari studi che dimostrano Che la musica che ascoltiamo Influisce tantissimo sulle nostre azioni Specialmente nell'ambito del sesso E quindi di conseguenza Essere sessualmente molto più disciplinato Ti può aiutare notevolmente A diventare anche più ricco A livello di soldi Ti rende più motivato Ti dà la forza maggiore Per conquistare realmente la... Poi cioè io voglio dire una cosa Lucone Hai detto? Cioè in questo video professi Il fatto di stare attenti agli stimoli sessuali E di eliminarli alla radice Hai messo solo pezzi di porno censurati in questo video Culi di fori roba Inizio di p***i tagliati eccetera Ma sei pazzo La donna c***a Cioè sei pazzo Tecnicamente cioè In maniera fantasiosa Ovviamente ipotetica Ed evitare la povertà Il grosso problema È che nulla di tutto ciò È istantaneo E tu sicuramente Non hai ancora conosciuto La gratificazione Che arriva con il tempo E questo ovviamente Potrebbe farti cedere Nella tentazione Perché tanto lo sappiamo Sei da solo Nella tua stanza Nel tuo bagno Ecco ecco guarda Guarda Nessuno lo verrà a sapere Ed ecco perché ho lasciato questi punti Sei da solo nel tuo bagno Ma che c'ho 13 anni Da solo nel mio bagno Nascosto Ma che è? Ma che sega è? Forse quando c'ho 15 anni 13 Ma boh Per ultimo Regola numero 6 Quando sei sessualmente disciplinato Ami e sei abituato A intraprendere Delle sfide difficili Il porno È tra i vizi più difficili In assoluto Da combattere Se riesci a superare questo Allora ci riuscirai Anche con tutti gli altri Quando mangi La dopamina sale Del 150% 150% Catene Subito Questa è l'immagine Che ha deciso di utilizzare Rispetto al normale Quando consumi nicotina La dopamina si alza Del 200% Quando fai sesso La dopamina cresce Del 250% Rispetto al livello normale Se consumi cocaina La dopamina si inalza Del 340% Eh conviene trovare Due volte Allora almeno le sommi E non ti troditi Ora sebbene il porno Il sesso Ti aumenta il livello di dopamina Del 250% È peggiore della cocaina Perché quel livello Lo mantiene Per un lungo periodo Nel tempo Ho capito zi Ma non è che c'è solo La dopamina Cioè quando trombi C'è la dopamina E basta E stai bene Ti fai le coccole Le carezze Ti addormenti dolcemente Tutto ancora sporco Di liquame Anche nella bocca Tutto ti si incrostano I baffi Bellissimo Per quanto riguarda Invece la cocaina Hai degli effetti Dannosissimi Sul tuo corpo Perché pipi Comunque No Non c'è mica solo La dopamina C'erano tutte le conseguenze E gli effetti collaterali Che la droga pesante Ti può dare Ma che siamo pazzi Più lungo della cocaina Ecco perché la sfida del Lo faccio comunque Tanto nessuno mi vede Nessuno è testimone È la più difficile Ma più importante Da superare Il porno Sul lungo andare Sul lungo termine Porta a non avere Più self control Quindi Eh no no Io ragazzi Andavo al giro Sul marciapiede È un casino Non poterti più controllare Non sei più tu Che ti stai controllando Ma è la dopamina Di bassa qualità Regola numero 7 Impara ad amare Correttamente Uomini ciechi Ti porteranno Nella loro totale Sbagliata strada Ti ci porteranno Anche a te Sentiamo Questa mi sa che è la regola Più bella Senza successi Non sposate Non hai bisogno Di andare a letto Con una qualunqua Stesso discorso Vale anche per le donne Con un uomo qualunqua Per trovare Quello giusto Ed infatti Studi recenti Dimostrano che Con quanti più partner Fai sesso Meno possibilità ci sono Che tu possa vivere felice In una relazione Sul lungo termine Essere disciplinati E consapevoli Studi recenti Della persona Con cui stiamo cercando Di collegarci Ci permetterà Di goderci Tutto In modo Molto più profondo E soprattutto Di avviare Un processo Di rispetto Reciproco Fra uomo E donna Perché è molto brutto Andare a letto Con qualcuno Che non rispetti Oppure andare A letto Con qualcuno Che non ti rispetta Non c'è cosa peggiore Tralasciando la dopamina Del sesso E quello è un dato Molto più Importante Quindi ragazzi Mi raccomando Se siete single Non trombate Dovete aspettare Avere una relazione fissa Capire se c'è rispetto E poi si tromba Non divertitevi Soprattutto a 18 19 anni Se trovate una In discoteca Col culo perfetto Bellissima Che vi porta a casa E vi vuole smammellare Assolutamente no Perché se non vi rispetta E ve lo rispettate lei Non divertitevi Non lo fate Non mi fate nervosire I genitori Dei nostri nonni Non avevano i telefonini Non avevano queste connessioni Facili Dovevano andare a cacciare Per strada Dovevano trovarsi La donna O l'uomo Con cui connettersi Live Nella vita reale E lo facevano con gusto Era piacevole E una volta che andavano a letto E facevano sesso Ti assicuro che se lo godevano Molto di più Almeno 100 volte di più Rispetto a te Che vai a mastur Comunque è fissato con la caccia Il nostro amico Parti su uno schermo Bisognerebbe un po' Meno andare sugli schermi A masturbarsi E imparare a cacciare Imparare a trovare Il proprio partner A conquistare Ad esempio Quella sessione di sesso Nella vita reale Non digitalmente Con tutti questi abbonamenti Dove vi prendono in giro Vi prendono per il culo E vi tolgono soldi Le persone intelligenti Sono loro Non tu che ti sei abbonato E ti stai masturbando Perché stai praticamente Fallendo Nel tuo intento Consiglio la revisione Di questo video Per sverate volte E Ah quindi Ah proprio C'è una tortura Con ti Vabbè Noi ci vediamo Al prossimo video Vai Ciao Sei un grande Ho scoperto un nuovo mito Mi sa stasera Ci divertiremo Nei giorni a venire Mi sa Mi sa stasera Non abbiamo C'è un grande Po Uh